Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo del nuovo bonus da 3.000 euro contro il calo energia. Vediamo insieme tutti i dettagli e come si richiede nel video che segue. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Nel decreto aiuti Quater come abbiamo appreso nelle scorse settimane è stata innalzata la soglia dell'esenzione fiscale del French Benefit aziendale. Si passa da 600 a 3.000 euro. Il nuovo tetto però è valido ricordiamolo solo per l'anno 2022 e serve per far aumentare gli stipendi dei lavoratori con il bonus delle bollette. Il bonus dipendenti da 3.000 euro può essere attenzione erogato solo dalle aziende che operano nel settore privato. A beneficiarne sono solo i lavoratori dipendenti e sono escluse da questo bonus le pubbliche amministrazioni. Sul contributo se riconducibile al pagamento delle bollette a una forma di welfare aziendale non si paga alcune imposte in quanto non è considerato un reddito imponibile. Le bollette che possono essere coperte da tale bonus sono quelle che riguardano gli immobili a uso abitativo del dipendente, del coniuge o dei suoi familiari che ne sostengono le spese anche senza che vi abbiano stabilito la residenza o il domicilio. Rientrano anche nel bonus le spese delle bollette per uso domestico condominali. Per ottenere il French Benefit non è necessaria alcuna domanda ma tutto dipende dalle scelte che farà l'azienda nei confronti dei dipendenti. L'impresa privata infatti potrà scegliere liberamente se offrirlo o meno ai suoi dipendenti. Il bonus da 3.000 euro riguarda circa il 17% dei lavoratori secondo Confindustria quindi purtroppo molto pochi. Voi cosa ne pensate a riguardo? Fatecelo sapere come sempre qui sotto nei commenti del video. Bene e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione e al prossimo video e un saluto a tutti!